Lino Banfi in lacrime, noi celtroni. Al funerale di Paolo Villaggio era presente pure Lino Banfi, che distrutto, non trattiene le lacrime, dichiara. Noi celtroni, lui intellettuale, davanti a Paolo Villaggio, lì nel fetro, l'amico e compagno di Mille Aventure Lino Banfi non ha potuto non farsi scappare qualche lacrima, ha risposto ai cronisti, solo dopo aver salutato la famiglia del compianto collega. A differenza nostra, che eravamo più celtroni, lui era più intellettuale, aveva più studi, più esperienza di partiti, di politica. Fa poi accenno alle loro grandi abbuffate. Ho tanti ricordi, vista la stazza sua e la mia, ci sono tanti ricordi di cibi, si mischiava di tutto. Io ne ho fatto di casini ma lui mi superava al 1000%. Nера là il 100%. Qu'un focusschimento è importante. Il 100% è importante. Il 100% è stato la cibi, perché non ha delle persone accenaltate. 30% è povertemente un povertimento. Non so, non tutto, l'ha Stageチro.